I grandi momenti derivano da grandi opportunità. E questo è quello che avrete stasera, ragazzi. Questo è quello che avete meritato. Una partita. Se ne giocassimo dieci, loro ne vincerebbero nove. Ma non questa partita. Ora, non stasera. Era destino che vi ritrovaste qui, stasera. Siete nati per diventare dei giocatori, ognuno di voi. Stasera li affronteremo e riusciremo a batterli, perché possiamo! Stasera, noi, siamo la più grande squadra del mondo. È il vostro momento. Il loro momento è passato. È finito. Questo è il vostro momento. Andate fuori e vincete. Stasera, noi, siamo la più grande squadra del mondo. Stasera, noi, siamo la più grande squadra del mondo. Stasera, noi, siamo la più grande squadra del mondo. Stasera, noi, siamo la più grande squadra del mondo. Stasera, noi, siamo la più grande squadra del mondo. Stasera, noi, siamo la più grande squadra del mondo. Grazie per la visione!